Un anno fa fu arrestato perché accusato di aver tentato di rovesciare il regime al potere e per la sua tesi di master sull'omosessualità. Secondo il suo avvocato è stato bendato e torturato per 17 ore consecutive con colpi allo stomaco, alla schiena e con scariche elettriche inflitte dalle forze di sicurezza egiziane, oltre a essere stato interrogato riguardo la sua permanenza in Italia e il suo impegno politico. Da Siracusa per Patrick Zaki un grido di giustizia e libertà in nome dei diritti umani. Moena Scala, ex presidente del Consiglio Comunale di Siracusa, con un cartello tra le mani ricorda la storia di Patrick Zaki, giovane ricercatore egiziano, attivista per la tutela dei diritti umani e di genere, che aveva deciso di vivere in Italia e studiare a Bologna. Per il suo impegno diverse le cittadinanze onorarie ricevute in Italia, Napoli, Bari e Milano. Patrick Zaki è stato nel 2018 uno degli organizzatori della campagna elettorale di Khaled Ali, avvocato e attivista politico impegnato nella difesa dei diritti umani, che successivamente però ritirò la sua candidatura, denunciando il clima di intimidazione e i numerosi arresti dei suoi collaboratori in Egitto. Zaki ha fatto parte dell'Associazione per la difesa dei diritti umani, con sede al Cairo. Nell'autunno del 2019 stava frequentando un master universitario e studi di genere all'Università di Bologna. Il 7 febbraio del 2020, nell'intento di tornare in patria per far visita ai parenti in Egitto, dopo l'atterraggio all'aeroporto del Cairo, alle 4 è stato catturato dagli agenti dei servizi segreti. Per circa 24 ore non sono trapelate sue notizie, né ai familiari né ai media. Dopo 356 giorni di ingiustizia a detenzione, di grave violazione dei diritti umani, secondo Moena Scala l'Italia ha il dovere di fare pressione sul regime di Al-Sisi per la liberazione del giovane Patrick. Non abbassiamo la guardia, dice Moena Scala, sui diritti inviolabili dell'essere umano, recita così il suo post sui social con lo splendido panorama sulla terrazza dei monumenti ai caduti. Grazie a tutti.